Per organizzare al meglio i tuoi prodotti, puoi aggiungere delle categorie all'interno del tuo negozio. In questo video ti mostro come fare. Una volta inserito il componente e-commerce, selezionalo. Dalla barra degli strumenti, clicca Modifica schermata e seleziona la voce Gestione e-commerce. Clicca a sinistra su Categorie, poi su Crea categoria e aggiungi un nome. Scegli a quale livello di categoria associarlo e indica, se vuoi, la nazione dove non è prevista la vendita dei tuoi prodotti. Infine, salva le impostazioni.